Grazie a tutti. Siamo tutti ormai online, siamo collegati, nel frattempo altre persone si collegheranno e vi do il benvenuto come Camera di Commercio americana. Naturalmente il tema è molto timely, è importante capire qual è appunto il polso della situazione e non si può non farlo non ascoltando, compulsando il Trust Barometer di Edelman. Fiorella Passone che tutti conoscono insomma perché è una veterana della comunicazione ma non in senso anagrafico, nel senso che condensa nella sua carriera tanta tanta esperienza e sicuramente ha davvero un orizzonte di comprensione di quello che accade molto vasto e molto importante. Ecco ci guiderà nella ricerca di Edelman che è una ricerca che naturalmente riflette quelli che sono i tempi che stiamo vivendo e quindi queste crisi che volano alte sopra di noi e che hanno un impatto anche nel nostro quotidiano, nelle nostre attività economiche ma che non si capiscono e definiscono bene. Quindi questo poi si riflette magari anche in un po' di pessimismo ma insomma con degli sprazzi come dire di grande opportunità. Però lo sentiremo da Fiorella che quindi ancora ringrazio per averci dato come American Chamber l'opportunità di commentarla con i nostri associati e poi naturalmente di diffonderla. Lo faremo insieme a un panel di primissimo piano, sono amici, sono soci della Camera, sono persone che naturalmente influenzano anche il corso economico con il loro lavoro del nostro paese. Quindi cominciamo in ordine alfabetico, Barbara Cominelli è la CEO di GLL Italia, quindi una persona che anche lei come dire ha condensato in una giovane età tante esperienze importanti, multinazionali e quindi sicuramente una persona avveduta per quanto riguarda le sue analisi. Gabriele De Giorgi che è Policy Manager di Uber ed è un'altra persona naturalmente che con la sua azienda può essere considerato anche disruptive, un innovatore, però sicuramente ha anche lui come dire un'opportunità di commento molto importante e sicuramente anche una finestra aperta sull'innovazione. Maurizio Davidsberna che è il Corporate Reputation and Communication Director EMEA di Whirlpool, quindi un grossissimo investitore internazionale anche naturalmente nel nostro paese e quindi ha il punto di vista di chi opera su uno scenario manifatturiero internazionale che quindi magari può risentire di più di influssi esterni internazionali. Simone Urbani-Grecchi che è Head of International Strategic Analysis di Intesa San Paolo e quindi come scherzosamente abbiamo detto prima di andare online è una piccola banchetta regionale dove per regione si intende come dire gran parte del globo, ma soprattutto diciamo c'è utile anche il suo cervello, insomma proprio su analisi geopolitiche che poi come abbiamo detto atterrano nel pratico, nel quotidiano. La discussione prevede naturalmente Fiorella che ci guida attraverso la presentazione del Trust Barometer, dopodiché un giro di domande ai nostri panelist e poi per chi volesse Federica raccoglie domande scritte per fare un po' di Q&A alla fine in modo da concludere questo nostro evento nel giro di un'ora, un'ora e un quarto, insomma il tempo che sarà necessario. Non mi dilungo oltre, chi doveva entrare nella conversazione è entrato e lascio la parola con piacere a Fiorella e vi ascolto. Ahimè eccoci, grazie mille Simone e buongiorno a tutti, buongiorno anche ai quattro panelist con i quali poi commenteremo i dati della ricerca. Faccio subito uno sharing del documento che credo dovreste vedere. Ecco, io non vedo più nessuno quindi avvisatemi se per caso c'è qualche interruzione che deve essere fatta. Intanto ringrazio l'American Chamber of Commerce per darmi questo spazio. La ricerca è una ricerca importante che noi conduciamo da 23 anni, siamo la ventitresima edizione e andiamo ad analizzare i drivers che ci aiutano a costruire la fiducia in 28 paesi. Il totale dei rispondenti sono 32 mila. In questi 23 anni noi abbiamo evidenziato alcuni trend che poi sono stati trend che hanno un po' condizionato le strategie di business ma anche di governo eccetera eccetera. Per esempio nel 2013 abbiamo iniziato ad assistere alla crisi di leadership che come vedrete nei dati di oggi persiste purtroppo ancora oggi. Nel 2015 c'è stata una chiara affermazione che la fiducia, il trust è un elemento chiave per la fiducia. Dieci anni fa si è subito identificato il ruolo del business come ruolo di promotore del cambiamento. Andando un po' indietro nel 2006, addirittura nel 2002 c'è la caduta del CEO come celebrity e nel 2006 assistiamo proprio al primo fenomeno di buona reputazione e credibilità della persona come me. Il tema di quest'anno è affrontare e gestire una forte polarizzazione e sostanzialmente abbiamo identificato quattro forze che sono un po' la causa di questa forte polarizzazione. La prima è un pessimismo diffuso rispetto al futuro. Infatti 24 sui 28 paesi investigati hanno espresso un pessimismo mai così alto. Il secondo elemento è questo divario di credibilità e di fiducia fra l'istituzione impresa e l'istituzione governo principalmente e una forte pressione, una crescente pressione di responsabilità sulle imprese. Il terzo elemento è quello di espressione di differenti livelli di fiducia a secondo che si appartenga a un ceto economico alto o basso. Il quarto elemento è quello della credibilità dell'informazione che rimane assolutamente centrale. Vediamo subito in questa slide come siamo messi noi italiani e poi vedete anche gli americani che sono ad un tasso di fiducia doppio rispetto al nostro, di ottimismo doppio rispetto al nostro. Questa è una slide che risponde alla domanda come pensi che starai fra cinque anni? Ecco, l'Italia è il quarto paese più pessimista. Diciamo che dietro di noi ci sono Germania e Francia. Ho voluto riprendere un dato legato alla quarta ondata pandemica con un buon livello di vaccinazioni. Questo è il risultato dell'intervista fatta nel novembre 2021. Come vedete eravamo al 27%, con praticamente zero differenza rispetto all'anno precedente e vi dico due punti percentuali di differenza rispetto al momento pre-pandemia. Quali sono i fattori che determinano questo pessimismo? In Italia sicuramente tutti noi abbiamo paura di perdere il lavoro, 95%. Seguito da inflazione queste sono due paure un po' personali e poi ci sono dei fattori esistenziali, quindi il cambiamento di clima, la guerra nucleare e la mancanza di energia e di cibo. Interessante vedere come sono messi gli americani perché esprimono valori decisamente più bassi dei nostri. Sono sempre paure importanti, però non ci sono numeri che iniziano con il 9, non ci sono numeri che iniziano con l'8, a parte la paura di perdere il lavoro. Quindi abbiamo uno scostamento di 10-15 punti. Le istituzioni, le quattro istituzioni che noi analizziamo sono le imprese, le NGOs, i media e il governo. Questa è la fotografia dell'Italia, i tondini neri indicano lo scostamento rispetto all'anno precedente. Come vedete noi non abbiamo fiducia in nessuna delle quattro istituzioni, altrimenti avremo qualche istogramma colorato di blu. Siamo neutrali sul business e esprimiamo poca fiducia nelle altre tre istituzioni. Questa è la fotografia degli Stati Uniti dove sostanzialmente sul business sono due punti percentuali più bassi di noi, ma crescono di sei punti, mentre noi perdiamo due punti rispetto all'anno precedente. Nel deck che vi lasciamo troverete anche come si esprimono le regioni americane, quindi il nord-est, il nord-east, nord-east, mid-west, south-west, e come si esprimono anche le comunità, quindi gli asiatici, black, gli ispanici e i bianchi. Tra l'altro vi dico che gli ispanici sono gli unici che mostrano tassi di fiducia in crescita, a volte anche a due cifre. Guardiamo adesso la fotografia specifica delle imprese e vedete che sostanzialmente noi siamo, come italiani, in una posizione neutrale, non esprimiamo fiducia, ma rispetto alla vecchia Europa guidiamo la classifica. Isolo il Nederland perché in 23 anni di Trust è sempre stato in una posizione di grande fiducia, però l'Italia rispetto a Francia, Germania, Spagna, UK si posiziona decisamente meglio. Come vedete anche gli Stati Uniti sono molto vicino a noi con un tasso di crescita. Guardiamo un po' le tipologie di business e vedete che i business familiari, le imprese familiari, sono le uniche che guidano, che ottengono un buon tasso di fiducia. Lo stesso vale anche per gli Stati Uniti, quindi anzi con un tasso, con una percentuale leggermente più alta. E poi i business privati sono in un territorio neutrale. Questa è una slide che ci fa vedere il tasso di fiducia nelle imprese rispetto al tasso di fiducia nei governi. Come vedete soltanto sei paesi, che sono quelli in fondo a destra, esprimono più fiducia nei governi rispetto alle imprese. Quindi un'eccezione per l'Europa e la Francia, Francia e Svezia. Per il resto Cina, Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e Singapore hanno più fiducia nel governo rispetto alla fiducia che ripongono nelle imprese. Per il resto vedete che ci sono anche paesi con un divario assolutamente significativo e importante. Abbiamo voluto ricostruire, purtroppo ce l'abbiamo solo per l'Italia, perché è un lavoro che abbiamo fatto noi, il trend degli ultimi dieci anni. Come vedete, e questo è un dato importante che noi ci dobbiamo ricordare, perché tendiamo ad avere una narrazione sempre molto negativa del nostro paese e di quello che ci succede, la fiducia nelle imprese è cresciuta di 12 punti, importante la fiducia nei governi è cresciuta di 25 punti, e media e NGOs più o meno hanno mantenuto quel tipo di fiducia nel corso del decennio. Cosa succede? Se abbiamo fiducia nelle istituzioni, così non è nei leader. Infatti vi dicevo prima che la crisi di leadership ha iniziato ad esprimersi nel 2013, ho tolto la slide sui dieci anni che ritroverete nel DEC, più o meno dieci anni fa eravamo in questa stessa situazione. Tendiamo a fidarci di più di coloro che conosciamo, quindi il mio CEO, il mio vicino di casa, la persona nella mia comunità locale, oppure ci fidiamo della scienza, quindi dati e numeri. Questo è il dato sulla fiducia 2022 comparato con il 2023, perdiamo tre punti, però interessante vedere cosa è successo nel decennio. Noi abbiamo guadagnato dieci punti percentuali, e questa è la media delle quattro istituzioni, quindi ancora una volta non siamo messi così male. Questo è il divario fra redditi alti e redditi bassi. Come vedete i redditi bassi hanno una fiducia più scarsa, ma ancora una volta se guardiamo alla fotografia del 2012, il divario fra i redditi alti e i redditi bassi era di 38 punti percentuali, oggi siamo a 13 punti, dove, noterete, cresce la fiducia nei redditi più bassi e si mantiene costante la fiducia nei redditi più alti. Dicevo che quest'anno noi abbiamo definito la lettura di questo trust nell'ottica di navigare in un mondo fortemente polarizzato. Vedete che gli Stati Uniti sono già definiti paese molto polarizzato, l'Italia è un paese in rischio serio di polarizzazione e abbiamo anche definito quali sono i criteri che ci portano a stabilire che un paese è polarizzato, quindi la sfiducia nel governo, la mancanza di identità condivisa, l'ingiustizia sistemica, pessimismo economico, paure societarie e sfiducia nei media. Interessante questa slide, ve l'ho messa, la differenza di fiducia fra i repubblicani e i democratici. Si ritiene che il paese, i paesi, non siano mai stati così divisi come in questo momento, 53% è la media globale, noi come italiani siamo in linea con la media, e gli Stati Uniti lo dichiarano nel 67% dei casi. Ci avviciniamo verso la fine e penso che queste ultime tre slide siano forse le più interessanti e significative per le imprese, perché si vede chiaramente che questa è la fotografia del mondo. Il business è la sola istituzione che è ritenuta competente ed etica, che sono i due fattori attorno ai quali viene letta la fiducia per le quattro istituzioni. Cresce l'etica per il terzo anno consecutivo. Mi spiace constatare che in Italia non c'è nessuna istituzione che è ritenuta sia competente che etica, il business, le imprese, crescono per il terzo anno consecutivo in ambito di eticità. E questa è la fotografia degli Stati Uniti, dove vedete che il business, le imprese, sono l'unica istituzione ritenuta sia competente che etica. Dicevo prima che abbiamo molta fiducia nelle persone di cui ci fidiamo e questa slide ce lo dice chiaramente. Mi fido moltissimo, quasi tutti i paesi, ad eccezione della Corea del Sud, si fida moltissimo del proprio datore di lavoro. C'è un invito a occuparsi delle tensioni sociali da parte del business, un invito che negli ultimi anni abbiamo visto sempre crescere e mai diminuire, quindi vorrebbero più coinvolgimento da parte delle imprese in questi sei fattori che vedete sulla slide. Non solo, si chiede anche che le imprese e i governi lavorino di più a stretto contatto. Tra l'altro devo dire che dal World Economic Forum è proprio emerso questo invito chiaro accalorato a creare delle sinergie, delle partnership, addirittura fra competitor, proprio a beneficio della società. Questa è una slide che ci fa vedere come si sono comportati i settori nel corso dell'anno e qui guardiamo i settori nel decennio. Come vedete, per esempio, i financial services, sono molto contenta che oggi ci sia Banca Intesa con noi, hanno guadagnato 16 punti percentuali. Il technology è rimasto sostanzialmente invariato, ma anche altri settori hanno guadagnato punti percentuali. Questa è la fotografia dell'anno in corso rispetto all'anno precedente sul tema delle industries e l'ultimo dato, proprio l'ultimo, è quello della fiducia nelle fonti di informazione. Vediamo che in Italia i motori di ricerca sono l'unica fonte di cui ci fidiamo, tengono però anche i traditional media e apparentemente sono in una zona rossa i media proprietari aziendali e i social media. Se guardiamo il decennio, c'è un marcato segnale di sfiducia solo nei social media. Tra l'altro i social media aziendali appartengono agli owned media, non all'elemento dei social media. e questo è sostanzialmente la fotografia per quanto riguarda gli Stati Uniti. Quattro ultime informazioni per navigare, per sopravvivere in questo mondo polarizzato. Le imprese devono continuare a guidare questa rivoluzione verso un maggior ottimismo, verso la ripresa economica, eccetera. È importante collaborare, che le istituzioni collaborino fra di loro. Questo tema del cambiare un po' la narrazione proprio per essere un po' più ottimisti verso il futuro e continuare comunque a combattere per un'informazione corretta. Esco dalla mia presentazione. Ok. Benissimo. Eccoci qua. Allora, ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato. Spero di essere stata chiara nonostante le informazioni fossero tante e avessi proprio il piacere di condividere quanto più possibile con voi. Passiamo adesso alla parte un po' di discussione. Abbiamo quattro rappresentanti di industrie diverse, di settori diversi, e anche di ruoli diversi. Parto subito con una domanda per Maurizio David Sberna. Allora, abbiamo visto, Maurizio, che da un punto di vista economico c'è la maggioranza della popolazione italiana che non crede in un futuro, come dire, più roseo. Però tendenzialmente abbiamo visto che è un po' tutta l'Europa e tutte le democrazie e i paesi sostanzialmente con una storia un po' più lunga. Mi piacerebbe avere un tuo commento su questo anche per il tuo osservatorio, dal tuo punto di vista. che è un ruolo europeo, include anche l'Africa, il Middle East, eccetera, e so che fai anche parte del board di ISPI, quindi mi piacerebbe un tuo commento su questo e cosa pensi che le aziende possano fare per aiutare le persone ad avere più fiducia. Grazie Fiorella, innanzitutto grazie alla Camera per l'invito e per la tua presentazione, sempre molto interessante e anche piena di spunti. Diciamo che con l'analisi emersa dal Trasbarometer personalmente, sia dal punto di vista personale che da quello aziendale, trovo tanti punti di connessione. Io, se sei d'accordo, citerei un'analisi economica empirica, un po' che è quello che ci fa vedere il business nel quale io lavoro, che è un business, quello degli elettrodomestici, dei beni, consumo, che tendenzialmente un po' tocca tutti quanti. E come dicevi giustamente tu, di ottimismo in giro ce n'è molto poco. Anche se, quello che personalmente, ma anche come azienda, abbiamo osservato nel corso degli ultimi anni, è che quando si tratta di parlare di cose più concrete, più vicine alla vita del consumatore, come per esempio l'acquisto di un bene di consumo, la scelta se fare un acquisto piuttosto che un altro, probabilmente questa sfiducia si muove molto più velocemente di quanto non si muovesse in passato. Faccio due esempi per portare, come dire, un confronto. Quando è cominciata la pandemia, molti di noi, io per primo, che sono un ex viaggiatore seriale in trasporto aereo, pensava che i viaggiatore aereo avessero ripreso la frequenza che hanno oggi. Tutti abbiamo comprato il forno nuovo a casa per fare il pane, perché chi di noi non ha mai fatto il pane durante la pandemia, alzi la mano, credo nessuno. Adesso invece improvvisamente andiamo tutti in vacanza. Questo è dato, e quello che abbiamo visto un po', credo il barometer lo racconti molto bene, del fatto che non c'è più un vero e proprio punto di riferimento. Questo si vede molto dai dati che hai mostrato sull'Italia, ma anche molto da quello che si vede in giro per l'Europa. Con nuances differenti, mi ritrovo molto per esempio su quello che dicevi rispetto alla Francia, rispetto al trust che c'è rispetto al governo. Se ben vediamo nel corso degli ultimi anni, anche dal punto di vista politico, è uno dei pochi paesi che ha visto una continuità governativa dopo il quindicennio quasi della Merkel in Germania. Appunto, come dicevo, questa fluttuazione si muove molto più velocemente di prima. Questo probabilmente mi viene da dire che anche le aziende, un po' come tutti noi, siamo forse poco preparati a capire come contrastare al meglio questa fluttuazione molto veloce. Faccio un altro dato che è pubblico. Nel nostro settore, l'anno scorso, dopo l'anno migliore di sempre, che era il 2021, quello della pandemia, gli ultimi anni della pandemia, diciamo così, prevedevamo per il 2022 un settore con una crescita molto leggera, ma una crescita. Prevediamo una crescita di circa il 2%, il settore è crollato del 22%. Per cui qualcosa di assolutamente imprevedibile, che se andiamo ad analizzare le dinamiche di quello che è successo nel corso del tempo, uno vede, non è mai successo che da una crescita così alta come il 2021 si passa a un crollo così verticale per quello che riguarda i beni consumi. E l'esperienza che abbiamo avuto empirica nei vari paesi ci dimostra che a un certo momento si è creato un accavallamento proprio, di tutta una serie di paure che hanno posto banalmente le persone, io ho la prospettiva, diciamo così, dei consumatori, che sono quelli che sono più vicini alla consumer confidence, pago la bolletta della luce perché non so quanto aumenterà il mese prossimo, o decido di riparare un qualche cosa in questo momento è rotto, faccio un viaggio. E qui si è arrivata a questa polarizzazione in cui le persone hanno deciso qualcosa che da quello che è stata la nostra esperienza li porta più vicino a avere qualcosa che li rende più contenti, più felici, che li porta verso un diverso tipo di fiducia. E quale ruolo in questo possono avere le aziende? Secondo me in qualche modo le aziende devono ancora provare ad identificarlo perché personalmente la sfida grossa che ho avuto nel 2022 è stato quello di capire come reagire così velocemente a dei mutamenti di scenario economico globale veramente molto immediati e quasi inaspettati. Secondo me non c'è ancora una ricetta, quello che possono però fare le aziende è da cercare di stare appresso all'analisi del cambiamento e cercare di intervenire il prima possibile quando qualcosa cambia. Perché questo avviene sempre più velocemente e molto probabilmente quello che ci troviamo davanti a fare non abbiamo ad oggi le armi per poterlo contrastare così come abbiamo fatto negli anni passati. Grazie, è molto interessante questo punto di vista diciamo dell'azienda di vita vissuta proprio e anche questo concetto della fluttuazione molto veloce che in alcuni momenti in questi dati abbiamo visto letto proprio da chi ogni giorno ha a che fare con quelli che poi hanno risposto alla nostra indagine. Passo adesso a Barbara Cominelli che è uno dei CEO una dei CEO rilevanti in Italia proprio per chiederle dal tuo punto di vista abbiamo visto che le imprese sono chiamate a giocare un ruolo importante e in tutto questo i CEO o comunque i leader di queste imprese devono caricarsi di responsabilità perché ormai viene dato per scontato che i prodotti e i servizi siano eccellenti si faccia anche profitto perché le imprese parliamo di aziende profit ma in tutto questo bisogna poi anche aggiungere il tema della formazione dei dipendenti del risk killing perché questa paura di perdere il lavoro è un tema importante ecco mi piacerebbe un po' capire come interpreti questo dato se lo rilevi proprio anche dal tuo osservatorio e certamente il fatto che Forbes e Fortune ti abbiano identificata come un CEO modello è perché evidentemente stai facendo un percorso nella giusta direzione quindi ci piacerebbe proprio un po' avere il tuo commento il tuo punto di vista su questo grazie 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 mille parto se vuoi dal contesto che come correttamente dicevi c'è un'incertezza e una paura molto forte di perdere il lavoro ma questo si accompagna anche invece al fenomeno delle great resignation e al fenomeno del quiet quitting quindi è un mondo in cui la polarizzazione se vuoi o la segmentazione c'è anche nel tipo di persone che noi abbiamo in azienda noi giustamente guardiamo sempre le medie però i fattori che sono alla base di questi comportamenti molto diversi cambiano in funzione del tipo di popolazione che abbiamo della fascia di età e anche del ciclo di vita in cui si è all'interno delle proprie carriere però anche noi facciamo un'indagine annuale su tanti i nostri clienti importanti sulle priorità del lavoro per i dipendenti e chiaramente dal pre-pandemia a oggi è salita moltissima l'importanza come tutti ci aspettiamo della work-life balance e quindi della qualità vita-lavoro è salita molto l'importanza della nostra capacità come aziende qui torniamo al tema della fiducia e di quello che ci si aspetta dell'azienda di garantire il well-being quindi è molto di più che semplicemente trovare un balance mi aspetto che il mio employer sia in grado di trovare questo balance e poi invece al contrario sono diminuiti il valore di alcuni fattori che sono la visibilità la capacità di crescere all'interno dell'azienda è un fenomeno diciamo interessante perché i nostri colleghi si aspettano molto di più da noi molto di più da noi lo dicevi tu in termini di business in termini di purpose ma anche in termini di come mi prendo cura dei miei dipendenti e questo vuol dire l'employability come il benessere l'employability e una serie di altri fattori teniamo conto che oggi tutti noi ci affrontiamo ad affrontare questo fenomeno delle dimissioni ma soprattutto del quiet quitting che forse è un fenomeno meno visibile e questi di fondo i driver poi sono lo stessi cioè l'ingaggio delle persone la relazione con il manager non ritrovare tutto questo set valoriale di opportunità e al contempo di benessere all'interno dell'organizzazione in cui si lavora quindi credo sia fondamentale veramente rimettersi un po' in gioco come manager e come leader delle aziende perché questo è il momento di ascoltare voi col barometer lo fate su scala importante all'interno delle proprie organizzazioni oggi è davvero il momento di ascoltare e capire di cosa hanno bisogno quindi questo vuol dire dati vuol dire survey ma vuol dire anche quella certa quantità di empatia che tutti ci siamo accorti che dopo la pandemia è diventata una leva fondamentale per gestire la relazione con i nostri dipendenti perché il quiet quitting la persona non ti dice che non sta bene la persona semplicemente si disingaggia inizia a non mettere l'extra mile inizia a non fare più fra virgolette la differenza e questo che è quello che noi abbiamo sempre considerato un fattore di vantaggio competitivo il tipo di talento ma il tipo di ingaggio il tipo di diciamo effort discrezionale che le nostre persone mettono rischia di essere nel lungo periodo un problema molto grave perdere una forza risorse ingaggiate e che hanno voglia di fare l'extra mile per cui credo che innanzitutto ascoltare e capire sicuramente c'è un tema anche di ripensare i modelli operativi e il modo di lavorare quindi questo lo stiamo vedendo con il lavoro ibrido però raccontarsi semplicemente che la rivoluzione di questo nuovo modo di lavorare si finisce con aver deciso che due giorni sono da casa o tre giorni in ufficio o viceversa obiettivamente è molto limitante oggi bisogna ripensare il modello operativo perché le persone hanno bisogno di stare insieme per collaborare socializzare per essere creativi per innovare e poi invece magari per altri task è più opportuno più efficace più produttivo che siano a casa se non si lavora su come l'azienda funziona su quelli che sono i meccanismi fondamentali dell'operatività aziendale finisce che anche questo modello ibrido invece che rendere le persone più produttive e più contente rende invece come si vede un po' di ritorno indietro oggi è perché non abbiamo ripensato abbastanza i nostri modelli per cui bisognerebbe proprio mettersi in maniera molto olistica se volete a rivedere un po' tutto questo tema del noi lo chiamiamo ridisegno delle attività diciamo per capire come l'organizzazione può funzionare può funzionare al meglio credo che sia una responsabilità che ci dobbiamo sentire anche come leader di essere molto più role model oggi per cui c'è questo bisogno di avere qualcuno a cui ispirarsi di cui fidarsi da seguire obiettivamente questo aspetto forse era è sempre stato importante ma oggi i nostri colleghi hanno bisogno di potersi fidare hanno bisogno di vedere l'autenticità hanno bisogno di vedere un leader che anche rifletta alcune fragilità che loro stesso vivono hanno bisogno di un leader un pochino più come dicevi tu prima e lo trovo molto corretto vicino in tanti sensi ma affidabile e assolutamente non infallibile perché nessuno è infallibile ma qualcuno di cui sicuramente mi posso fidare perché alla fine sono convinto che il leader o la leader si prenderà cura di me avrà la responsabilità il successo non solo come successo dell'azienda ma come successo degli altri e per gli altri io credo che questo oggi sia di importanza fondamentale all'interno delle aziende quindi un percorso che parte dal rivedere il rapporto con i colleghi ripensare i modelli operativi e anche mettere un po' in discussione il nostro ruolo e cercare appunto da questo punto di vista di avere molto più l'occhio come dicevi tu all'inizio i risultati gli stakeholder esterni le nostre sfide ISG ma il capitale umano la sfida di ISG più importante che abbiamo in questo momento di transizione probabilmente quella di assicurarci il successo e la sostenibilità del lavoro delle nostre persone tra cui però magari ne parliamo dopo l'employability che oggi è un tema di assoluta rilevanza grazie mi è piaciuto molto me lo sono segnato un paio di parole che tu hai utilizzato il concetto di ripensare di ridisegnare eccetera quindi come se volessi dire che ogni giorno bisogna proprio rimettersi in discussione a seconda del contesto esterno dentro il quale noi siamo catapultati e anche questo è certamente un elemento che drena tantissime energie ok grazie Barbara e passo a Simone intanto perché mi piacerebbe capire da lui come legge questo dato positivo di una crescita di 16 punti percentuali di aumento a livello di fiducia e se ci sono delle caratteristiche che potrebbero anche essere mutuate da altre imprese ecco questo era un punto che mi piaceva che mi piaceva commentare e capire ok benissimo grazie guarda direi che il più 16 si spiega in maniera un po' scherzosa e un po' seriosa al tempo stesso scherzosa mi viene da dire perché partendo dal 2013 se il punto di partenza è il 2013 noi nel 2013 eravamo in un contesto che parlo dei servizi finanziari che usciva dalla crisi del 2009 seguita poi a breve a giro a stretto giro di posta dalla crisi del debito sovrano quindi un doppio colpo praticamente mortale che non è stato mortale grazie all'intervento delle banche centrali e poi ovviamente anche dei singoli operatori ma diciamo che il più 16 non è non è tutto non è tutto oro perché come tu hai elegantemente poi sottolineato nelle nelle slide si è visto partiamo partiamo da un punto basso nel 2013 ma rimaniamo a un punto basso tuttora non voglio essere pessimista però i servizi finanziari proprio nella tua nella tua analisi si vede che sono uno dei dei settori che ha meno fiducia di cui il pubblico ha meno fiducia quindi diciamo il punto di partenza era talmente basso che il più sito se vogliamo si può spiegare così ci sono poi ovviamente come dicevo delle cose anche come dire da frecce all'arco del settore e dei meriti vanno dati il settore bancario è molto più solido rispetto a dieci anni fa sicuramente anche grazie al massiccio intervento delle banchi centrali ma non solo nei confronti delle banche e devo dirlo anche credo che sia una cosa percepita a livello di pubblico di pubblico generale la maggior presenza degli organismi di vicinanza nella nostra attività ha infuso fiducia nel settore io credo che ci siano poche istituzioni visibili forse sono fuorviato dal fatto che lavoro in una banca ma poche autorità sono più visibili della banca centrale forse anche l'effetto draghi che abbiamo avuto come presidente del consiglio in questi anni ma credo proprio che la banca centrale sia un'istituzione particolarmente presente ecco sul tema diciamo quando Barbara prima ha parlato di anche di ESG e di ruoli da rivedere ecco tornando un attimo alla tua alla vostra analisi il fatto che il business sia l'istituzione più stimata secondo me è molto positivo perché noi spendiamo la gran parte del nostro tempo senza essere schiavi come diceva Nietzsche in azienda perché come ci ricordiamo bene Nietzsche diceva che chiunque non è padrone dei due terzi della propria giornata è schiavo ecco allora credo che intorno a questo tavolo siamo tutti schiavi e scherzi a parte c'è da rivedere un modello io credo che questo sia un segnale questa fiducia nel business possa essere letta positivamente perché è un segnale del fatto che la transizione verso lo stakeholder capitalism è in atto magari non è esplicita ma è in atto ed è il fatto appunto che si riveda la work life balance che si parli di employability è un ottimo segno l'intesa San Paolo da questo punto di vista sta facendo un lavoro eccezionale e non è banale anzi indicativo che i talent i talenti che noi assumiamo ci chiedano tutti alla loro giovane età il work life balance è una cosa che quelli della mia generazione non avrebbero neanche concepito quando si iniziava a lavorare era passi lunghi e ben distesi questo era l'approccio adesso si parla di work life balance è del sacro santo che sia così per carità perché il progresso tecnologico lo permette però ecco un cambio di paradigma importante che noi nei servizi finanziari stiamo quantomeno come banca stiamo assorbendo e al quale ci stiamo ispirando notevolmente grazie perché allora intanto ci hai rassicurato che il settore è più solido e la parte diciamo dei servizi finanziari così come il settore del farma tocca a noi proprio come persone perché salute e soldi in un certo senso e mi è piaciuto anche questo aspetto proprio della transizione che tu hai sottolineato che è in atto e che probabilmente aiuterà a rivedere il paradigma che tutti un po' criticano del sistema capitalistico per come lo conosciamo noi oggi grazie vado adesso su Gabriele De Giorgi e a te faccio due domande insieme perché poi ritorno a fare il secondo giro di domande allora la prima domanda è abbiamo visto come le imprese sono sostanzialmente sempre più etiche quindi mi piacerebbe capire come interpreti sostanzialmente questo fattore e se in qualche modo ti puoi spingere a definire che le imprese sono anche hanno preso anche un ruolo di attivisti in un certo senso e la seconda domanda che ti faccio è un po' legata anche al tuo percorso professionale ti abbiamo visto come political advisor per diversi anni quindi se da una parte si ritiene che le imprese siano l'istituzione che gode di più fiducia abbiamo visto che in Italia il governo pur partendo da un dato basso è quello che ha guadagnato 25 punti di fiducia tra l'altro tu hai contribuito perché in quegli anni eri dall'altra parte ecco mi piacerebbero un po' dei tuoi commenti quindi la prima domanda è proprio sull'aspetto etico delle imprese e la seconda domanda è capire un po' leggere un po' come mai comunque le imprese dal tuo punto di vista continuano ad essere l'istituzione che gode di più fiducia e però ci sono un buon più 25 da parte del governo grazie tanto ti ringrazio e ringrazio anche diciamo l'American Chamber Edelman per il lavoro fatto e per aver organizzato questa tavola perché la suggestione di ragionare insieme su questo rapporto e la fiducia è naturalmente interessantissima in un momento come oggi dove vediamo appunto questa polarizzazione che è una frammentazione di questa fiducia sembrerà che la prendo molto alla lontana e molto larga ma non sto evadendo la risposta cioè sarebbe interessante che ci chiedessimo un momento che cos'è la fiducia e la fiducia è stata ovviamente definita in cento modi il modo in cui avvicinandomi all'incontro di oggi ho cercato di rileggere l'incontro di oggi sono andato a riprendermi Nicholas Luhmann che era un bellissimo e complicatissimo sociologo tedesco e sostanzialmente dava una definizione della fiducia come una semplificazione del mondo perché se noi la mattina non avessimo fiducia nel mondo in quello che può succedere il mondo è un luogo talmente complicato che non ci alzeremmo nemmeno dal letto questa è una sua definizione testuale se ci pensate poi sostanzialmente ricade su tutte queste istituzioni se noi non abbiamo come individui fiducia nel nostro vicino nel governo nel prodotto che compriamo nel servizio che lo utilizziamo rimarremo paralizzati e non faremo nessuna di queste scelte in questi anni questa fiducia è stata messa anche criticamente positivamente sotto pressione da una rinnovata trasparenza da una visibilità enorme di una quantità di informazione potenzialmente infinita negli ultimi vent'anni esponenzialmente anno dopo anno ognuno di noi ogni cittadino quando parliamo di istituzioni in senso lato ogni consumatore quando parliamo banalmente insomma della relazione che c'è tra azienda e il proprio cliente è stata esposta non solamente alla qualità la bontà di un determinato prodotto ma anche a quello che comprare quel prodotto significava in termini di identità e questo secondo me è stata una si chiamerebbe una wake up call e lo dico anche diciamo essendomi unito intendo iniziato a lavorare per Uber ormai cinque anni fa quattro anni fa e mezzo proprio all'inizio di una fase di riinizio di un'azienda che si era appunto qualificata come Disruptor entrando nei mercati sostanzialmente forte di una tecnologia di una visione ma forse questa visione era un po' come posso dire sfocata su tutto ciò che non fosse crescere 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 che è stato anche un tratto distintivo delle tech company di alcuni anni di alcuni anni fa oggi invece questa trasparenza e questo dialogo triangolare tra istituzioni società e soggetti di business ha portato appunto a questa wake up call che ha significato dire che nella società il business non è un soggetto alieno alla società e questa fiducia appunto si costruisce per passo dopo passo e si cerca sostanzialmente diciamo di arrivare al punto in cui un'azienda la scelta di un'azienda e anche la scelta dei valori che quell'azienda cerca quanto meno di difendere e credo che nonostante tutto siano proprio alla fine i cittadini progressivamente a fare questa questa distinzione e puniscono lì dove non c'è consistenza tra il manifesto ideale valoriale che si porta avanti e invece diciamo la la realtà questo va di pari passo probabilmente ha delle sfide che ci continueremo a portarci a portarci avanti con anche grande realismo oggi le aziende dotate di una di una definizione SG di una di una consistenza di questa responsabilità sociale sono poi di fatto le aziende più stabili più solide che appunto diciamo non vivono in maniera parassitaria la società e che non la che non sono diciamo estrattive ma che a cui contribuiscono alla crescita questo genera poi un volano positivo ovviamente con le istituzioni statuali con i governi che cominciano a intravedere le possibilità e non solamente gli elementi di pressione che ne derivano da cambi regolamentari subiti a subiti certamente non subiti ma comunque in qualche modo forzati diventa invece un dialogo positivo sulla crescita beh credo che noi siamo stati fortunati naturalmente rispetto anche ad altri paesi hanno da avere un assetto costituzionale forse più ad incredibilmente più adatto a gestire la complessità penso che noi ne abbiamo abbiamo tanto in Italia quantomeno diciamo così ragionato sul sul dovere riformare l'assetto costituzionale e certamente meriterebbe qualche aggiornamento ma l'impianto di fondo è un impianto nato in Italia tardi quindi in realtà consapevole di quanto il mondo potesse essere un luogo incerto e quindi molto capace di reggere questo e negli ultimi anni infatti quei meccanismi di salvaguardia della credibilità della consistenza dello Stato si sono visti direi nella Presidenza della Repubblica ora io ho avuto la fortuna di vivere due anni di esperienza a Palazzo Chigi quindi però non credo che ci sia stato certamente Mario Draghi è stato diciamo così un elemento per noi tutti come paese fondamentale ma non credo che questa ci sia stata questa marcia in più da parte dell'esecutivo credo invece che l'esecutivo il sistema diciamo parlamentare sia stato capace di fare fare perno intorno a una Presidenza della Repubblica che in questi in questi anni ha creato ha dato l'idea che qualunque cosa potesse succedere l'Italia c'era e non sarebbe venuta e non sarebbe venuta meno spero di aver risposto entrambe le tue domande hai risposto e mi piace molto la definizione che hai dato di azienda come espressione di valori in qualsiasi settore si operi devi essere proprio espressione di quei valori fondanti dentro i quali si devono riconoscere dipendenti consumatori e un po' tutta la società e mi è piaciuta moltissimo anche la tua lettura di questo più 25 perché vuol dire che non è fortuna ma abbiamo delle solide radici quindi in qualche modo abbiamo la possibilità di continuare a fare un buon un buon lavoro grazie anche per la definizione che ci ha riportato di fiducia noi mi sono e l'ho omesso avrei dovuto dirlo la leggiamo come la moneta corrente nella stakeholder economy grazie allora torno su Simone quindi stiamo andando un po' verso la conclusione però restate ancora con noi allora chiamo in gioco l'esperto di geopolitica e a te chiedo abbiamo visto questo mondo estremamente polarizzato vale questa cosa soprattutto per le nazioni europee quindi come leggi questa tendenza globale e come la contestualizzi in Europa guarda allora a livello globale è il risultato delle mancate risposte della globalizzazione per essere sintetici la globalizzazione ha portato lo sappiamo delle diseguaglianze ha esacerbato le diseguaglianze che già erano forti prima sia a livello patrimoniale che a livello reddituale questo è un fattore e la polarizzazione delle nostre società è poi anche acuita dal ruolo dei social media che ha radicalmente cambiato il modo di interagire tra di noi ma anche quello di fare politica quindi di fare comunicazione e lo abbiamo visto io ho letto recentemente un bellissimo libro di Max Fisher che è un reporter del New York Times che ha scritto The Chaos Machine che è un libro appunto in cui spiega come i social media abbiano polarizzato non necessariamente uno contro uno ma N contro M i vari gruppi fomentando senso di appartenenza a livelli appunto estremi provocando frammentazione a livello lo stesso discorso della globalizzazione si applica ovviamente ai rapporti tra stati la globalizzazione ha portato fuori dalla povertà centinaia di milioni di persone in Cina e in India ma ne ha portati dentro la povertà o a rischio di povertà decine di milioni in Occidente e questo ha creato dei problemi quindi questo è un grosso tema a livello europeo ecco questo è un bellissimo tema ma il discorso è che purtroppo questo dimostra di nuovo per l'ennesima volta la debolezza delle nostre organizzazioni internazionali e in particolare di quelle sovranazionali per quanto riguarda l'Unione Europea io lo dico sempre l'Unione Europea è tenuta ostaggio dai poteri di veto degli stati gli stati si riempiono la bocca accusando l'Unione Europea di incapacità e di inazione l'Unione Europea fa quello che gli permette di fare i propri membri cioè gli stati lo abbiamo visto con la pandemia l'Unione Europea è riuscita a fare cose che erano impensabili tra cui ad esempio raccogliere denaro sui mercati finanziari cosa non banale però tant'è quando c'è stato poi il problema recente della carenza dei medicinali l'abbiamo visto negli ultimi sei mesi l'Unione Europea l'unica cosa che ha potuto fare è rivolgersi agli stati e a dire a loro signori fate in modo tale che i medicinali che sono approvati in un paese X siano utilizzabili anche in un paese Y perché in questo momento ci sono 27 normative diverse e questo non aiuta ovviamente la distribuzione dei medicinali che come sappiamo per la grandissima parte per i principi attivi provengono da da Cina e da India quindi c'è una dipendenza strutturale ecco questo in estrema sintesi è il motivo per cui c'è questa grande polarizzazione sia a livello società diciamo interno sia a livello internazionale ecco grazie anche questo punto di vista molto interessante tra l'altro ritorneremo dopo con Maurizio anche a parlare proprio del suo punto di vista sul ruolo dei social media adesso ritorno su Barbara e ci siamo prima lasciati dicendo commenteremo dopo il tema dell'employability quindi di tutta questa responsabilità di reskilling di formazione continua che pare oggi essere messa anche questa sulle spalle dei CEO quindi volevo un po' il tuo parere anche se hai qualcosa magari da commentare rispetto a questo tema che ha sollevato prima Gabriele dell'azienda come espressione di valori di cui hai già fatto accenno un po' grazie allora l'employability io credo che sia una delle sfide più importanti in temi DSG che tutti noi abbiamo davanti come aziende e questo siamo in un paese dove lo sappiamo gli indici del digitale ma non è l'unico tema di skill gap abbiamo uno skill gap gigantesco quindi un paradosso dove comunque c'è un tasso di disoccupazione elevatissimo nelle fasce giovanili e contemporaneamente stiamo parlando di 150.000 200.000 in alcuni casi 300.000 quando la riempiamo l'orizzonte posti di lavoro che non si riescono a riempire perché non si trovano le competenze e io credo che la prima fase è stata per tutte le aziende quella di iniziamo a ragionare su dove andiamo a trovare i talenti e qui la guerra dei talenti tutta la fatica che tutti noi facciamo per attrarli per trovare l'esperto di digitale l'esperto di cyber security l'esperto di cloud chi ci aiutasse a fare la trasformazione delle aziende poi a un certo punto le aziende più avanzate sicuramente se parliamo di grandi gruppi o delle persone che sono qui al tavolo l'hanno già fatto lo hanno fatto con grande impegno però il reskilling e l'upskilling non sono andati probabilmente alla stessa velocità con cui ci si è focalizzati sul desiderio di inserire talenti giovani e invece poi in realtà la trasformazione delle aziende passa dal reskilling e dell'upskilling delle persone che noi abbiamo in azienda e dalla crossfertilizzazione dei nuovi talenti e delle persone che abbiamo che nasce questa capacità di innovare perché abbiamo visto in una prima fase anche della digitalizzazione i ragazzi del digitale messi in una stanza a giocare a calcetto e a fare dei bellissimi progetti ma poi non hanno intaccato il DNA dell'azienda quindi è stata una digitalizzazione che non ha impattato profondamente l'azienda per cui invece il modello attuale dove le due iniziative vanno a fianco secondo me è fondamentale non è facile non sarà facile spaventa però una delle ragioni per cui le persone si sentono insicure è perché non hanno la certezza di essere employable come datori di lavoro in certe fasi del mercato è difficile garantire il lavoro a vita ma noi dobbiamo farci carico di garantire l'employability quindi è diventato quasi più importante e quasi più per garantire alle persone che poi siano spendibili all'interno della mia azienda ma anche in un futuro sul mercato del lavoro quindi io credo che questo sia un tema chiave che deve riguardare tutti non può riguardare solo ogni tanto noi stessi leader chiediamo a tutti i nostri colleghi di lavorare sul proprio upskilling e reskilling e poi magari noi non dedichiamo tutto questo tempo a lavorare sulla nostra di formazione a garantire che anche noi i livelli un po' più alti sono pronti per il futuro per cui credo che sia fondamentale lavorare su contenuti tecnici che possono essere banalmente il digitale e la sostenibilità che sono i due temi su cui chiaramente ci serve un'iniezione di contenuto ma poi anche tanto sulle competenze software perché come dicevamo prima il mondo ibrido è un mondo dove devi delegare quindi non c'è il micromanagement se tu come middle manager senior manager questa cosa non l'hai mai fatta il nuovo modello non funzionerà non riuscirai a mantenere gli stessi livelli di produttività se le persone si concedono un po' più di flessibilità e diventa un circolo onestamente vizioso per cui io credo molto sull'investimento a 360 gradi in questo periodo per ridare fiducia ma anche per garantire la sostenibilità futura per cui bene inseriamo persone nuove bene inseriamo diversity oggi non abbiamo parlato però anche quello sicuramente è un tema fondamentale per la sostenibilità però diciamo allocchiamo anche parte del nostro tempo a lavorare su noi stessi perché l'altro giorno leggevo questa ricerca di HBR sul tema dell'engagement tra i manager migliori e i manager peggiori c'è il triplo di livello di quitting cioè le persone di quiet quitting o disengagement se sei un bravo manager hai meno di un terzo di persone che non sono ingaggiate che è quasi fisiologico avere un minimo livello 3-4% di persone non ingaggiate all'interno di un'azienda per vari motivi quindi molto anche credo sia lavorare su se stessi e sul lavoro del management e middle management grazie tra l'altro hai proprio toccato un tema che è stato abbastanza centrale all'World Economic Forum di quest'anno un po' in generale ma soprattutto per la quella che definiscono la longevity economy quindi se noi non pensiamo a noi stessi in qualche modo ci auto eliminiamo e non possiamo puntare il dito contro nessuno grazie Barbara chiudiamo in bellezza con Maurizio con il quale durante la fase insomma di discussione di come organizzare questa giornata abbiamo ci siamo ritrovati a parlare del ruolo dei social media quindi ho trovato molto interessante il suo punto di vista e quindi mi piacerebbe capire se da parte tua l'uso estensivo dei social media ha in qualche modo inciso su questa crescita di disparità che vediamo delle divisioni all'interno dei paesi e poi anche sulla percezione che queste diversità disparità siano incolmabili e poi mi interessa avere la tua opinione sul ruolo che le imprese potrebbero avere nel rafforzare la coesione sociale se ce l'hanno da dove iniziare allora grazie per la per la domanda e mi sono ripreso di lato il la slide che hai proiettato prima sui trend dei vari delle varie tipologie di media effettivamente anche tra i vari paesi in realtà secondo me ma questa è un'opinione personale è il filo conduttore è che è cambiato di molto uso un termine un po' strano il gusto della complessità anni fa prima di formarsi un'opinione si guardavano diverse tipologie di fonti si cercava di confrontare si parlava con qualcuno adesso il mondo è fatto per verticale per cui tutto quello che non fitta qui dentro non è in qualche modo rapidamente complessibile e questo si vede anche nella formazione di un'opinione anche quanto se vuoi la fluttuazione dei trend di fiducia o di strast vadano più veloci specialmente per quello che riguarda una classe di popolazione fino ai 25 anni io ho un'esperienza personale con una ragazza molto molto brava che fa in questo momento sta facendo uno stagio nel mio team il primo mese è stato come dire complesso spiegare che il mondo non è fatto così in ufficio non è fatto per così perché effettivamente il modo in cui noi fruiamo l'informazione è completamente diverso questo ha sicuramente dal mio punto di vista e anche un po' dall'osservatorio professionale che vedo un impatto molto rilevante su quello che è la formazione dell'opinione che poi guida la fiducia o meno in questo sicuramente le aziende che hanno nel mondo della reputazione della fiducia un ruolo da poter svolgere io vedo per primo la mia ma sicuramente molte altre sono nello stesso modo hanno bisogno di spingere un po' l'acceleratore su questo perché siamo in quella fase di mezzo in cui bisogna cominciare a capire come cambiare l'orientamento dello schermo per capire quanto andare più veloce noi parliamo ancora oggi di own media perché i canali aziendali sono ormai hanno assunto di fatto una categoria di media ben definita all'interno di un sistema in cui c'è ancora una predominanza di cultura sul print media che in questo momento a seconda di chi parla è completamente fuori discussione oppure se devo far passare un messaggio quanto quello che vedo scritto sul titolo di un giornale anche molto importante in un paese poi si tramuta in un orientamento al consumo un orientamento all'opinione questo aspetto ormai si è completamente slegato per cui la tattica sta diventando di perlomeno per quello che mi riguarda cercare di fare un messaggio tailored per ogni singola audience sul suo singolo canale voglio parlare al governo cercherò di targettare un print media significativo perché so che finisce nelle rassegne stampa mattutine di Palazzo Ghigi la camera eccetera voglio parlare di sostenibilità devo capire qual è il soggetto che non è l'azienda che possa parlarne al meglio perché ormai tutti noi abbiamo in qualche modo un punto di riferimento i prossimi 5-10 anni saranno secondo me dedicati a capire quali saranno i punti di riferimento e il canale attraverso cui far passare questi punti di riferimento per la generazione che in qualche modo creerà la fiducia andando avanti chiudo parlando solo di 30 secondi su un tema per me molto importante che è il Regno Unito come azienda noi in Europa siamo presenti in 46 paesi direttamente più i mercati di distribuzione uno dei mercati più grandi per noi è il Regno Unito e in alcuni di questi grandi paesi noi monitoriamo direttamente la regolazione del nostro marchio nel Regno Unito per esempio c'è una polarizzazione molto molto forte fra quello che pensano le persone dai 50 in su rispetto a quello che pensano dai 18 ai 34 e abbiamo visto che i due canali io passo lo stesso messaggio su due canali la percezione è completamente differente allora mentre prima c'era una sorta di diciamo così dal punto di vista delle aziende creo la mia company purpose cerco di declinarla verticalmente quanto più possibile adesso forse la percezione sarà in futuro quella di creare una company purpose che possa vestirsi in tante differenti company purposes rispetto a quello che voglio trasferire perché there's no one size fits all anymore grazie anche tu ci hai dato con questo ultimo intervento degli spunti interessanti intanto come far combaciare la visione verticale e orizzontale del mondo come appunto avere un messaggio strong forte aderente all'azienda e come declinarlo e mi è piaciuto molto anche il messaggio che hai lanciato di come legare la fiducia alle generazioni future penso che abbiamo avuto tantissimi stimoli di riflessione grazie a Barbara Simone Maurizio Gabriele io mi porto a casa parecchio da questa piacevole chiacchierata quindi voglio ringraziare tutti voglio anche dire che chi è collegato o comunque gli altri associati di AmCham se avessero qualche curiosità particolare o di lettura dei settori oppure di altri paesi ce lo fanno sapere e penso che Simone si sia staccato quindi ringrazio io e chiudo io grazie mille buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti